amico ciao sti abbiamo un problema c'è scritto il signor grimaldi in persona e la nave in ritardo tredi diamo la fai tredi andiamo a fare la pipì forza vedrai c'è tutto bloccato non era mai successo stamattina ci hanno mandato un messaggio dicendo che la nave ritardava di un'oretta ma secondo me ora che siamo sul proprio in loco al porto i camion lì devono entrare al porto e devono fare spazio per quelli che devono uscire un po di terra si vede partiti con due ore e mezza abbondanti di ritardo ha viaggiato bene perché così in tardo siamo ma non come credevamo ora poi si vede a chi la saliva eh comunque vai due giorni adesso è molto troppo sul paghiero vogliamo andiamo via 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 Deci... nove... otto... sette... sei... cinque... quattro... tre... due... qua si inizia a smontare per venire a vedere c'è il cric flessibile io sto qua perché voglio vedere il progetto dall'inizio alla fine voglio partecipare al taglio quindi il progetto qual è? il progetto è tagliare qui perché non mi sterza la gomma questa va via subito qui è proprio come il pane va via cacciavite a croce vai noi siamo ok attenzione vieni stanzato tutto adesso fa metti lì lavoro eseguito con maestria pazienza e precisione non si può le noi parta o sia io ti odio già perché non ci monto non posso io tutte le volte con un panchetto facciamo altro poi me li si abito me li si abito me li si abito alleno il gluteo è molto sucio fanno teo scherzi si comunque il sedile è molto comodo attenzione il sedile è comodo su questa anche su questa è già lì eh si ma ora te lo faccio ghiaccià ma te lo faccio ghiaccià ma te lo faccio ghiaccià te li ti ci piace qua eh non è bellissimo però è simpatico racconta barzellette divertentissime niente io volevo solo ricordarvi che domani ci sarà l'evento del raduno di auto e moto storica del quale parlerà adesso Marco e volevamo salutare già da oggi i nostri amici di coppia avventura grandi che sono arrivati qua ieri notte e sono venuti a farci compagnia lascio la parola al maestro Marco Garruccio vai buonasera a tutti e grazie per essere qua domani sarà una giornata molto intensa molto molto intensa avremo parecchie auto storiche moderne soprattutto qualcuna anche da Rilly e soprattutto avremo anche una moto che viene su dal continente arriva da Badova una moto che ha 104 anni è una moto che viene di generazione in generazione quindi è un po' un piccolo gioiello siamo riusciti a portare su la nostra macchina nella nostra fiesta di Dario abbiamo iniziato a novembre a cercare Paolo che lì è il nuovo proprietario della macchina è che si è fatto un po' di strada per venire qua ma noi eccoci qua per zona siamo noi il signore eccoci qua il signore eccoci qua grazie basta basta l'organizzazione basta basta tutto qua da più lontano quest'oggi ed è il gruppo di Coppia Ventura proveniente da Buti Buti Si chiede Cosa state facendo? Ah, state cercando loro? Ah, eccoli, Coppia Aventura, che stanno arrivando. Ma buti in Toscana? No, aspetta, no, io li farei salire qua, gli darei la tal... ufficialmente, vabbè. Fateci, salite qua un attimo, anche voi ci mancherebbe altro? Tu volevi anticipare la cosa? No, facciamo risalire un attimo. Aspetta, ma ne sono tutti i fili. Eccoli qua, ti arrivano? No, io non parlo. Arrivano la primo piano, non potevano manchiare questa edizione quinta dell'Eccoci Qua, prima memoria Dario Marras, da avuti gli amici di Coppia Aventura, consegna la targa Stefano Brandano, presidente dei Maestrali Explorer, 4x4. Si vuole compiù? Thank you very much.